Ciao a tutti, mi chiamo Ciro Formuso, sono fisioterapista. Ciao, sono Ilaria e arrivo dal Texas. Ho conosciuto Energy Training nell'ottobre 2016, l'anno scorso. Io ho avuto notevoli risultati dal primo weekend qui a Malta, dal 16 al 19 febbraio 2017. Cerco di aiutare i miei pazienti a stare meglio, quindi al benessere di tutta la persona. Ho conosciuto questa possibilità di venire a Malta, Energy Training, perché visionando dei video di Italo, proprio mi è uscito un pop-up di Francesca e dato che la nutrizione è sempre stata una mia grandissima passione, ho voluto provare questa esperienza. Non è arrivata per caso, è probabilmente la più giusta per me in questo momento. Nel corso dei giorni, del tempo, ho toccato con mano veramente un cambiamento nel mio corpo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista anche psicologico, anche emotivo. Quindi ho perso molti ma molti chili rispetto a prima, mi sono completamente asciugato, cioè ho perso tutto quello quasi quasi del tutto lo stato infiammatorio precedente e questo mi ha permesso proprio di poter guardare ancora oltre, ancora più in là. Proprio per questo motivo ho scelto di ritornarci in questo weekend, proprio per cercare di perfezionare ancora di più questo programma, questo percorso. Questo weekend è stato bellissimo, ho imparato tantissime cose, è stato per me una possibilità di riflessione, di confronto perché ho scoperto e imparato cose nuove, ho trovato persone molto simpatiche, molto divertenti, con le quali abbiamo riso dei nostri limiti, delle nostre, se vuoi, anche paure di affrontare certi temi o di accettare delle cose che fino a ieri davamo invece per scontate come sane, buone, perfette. Quindi quello che mi ha colpito di questo programma è che attraverso l'alimentazione, attraverso il cibo, noi possiamo senz'altro migliorare la nostra condizione psicofisica. Si è circondati da delle persone specializzate in questo campo e quindi offrono la massima disponibilità e il massimo supporto a 360 gradi. Il clima è stato molto serio, Francesca molto professionale, con una conoscenza infinita che ci ha trasmesso nel migliore dei modi, però anche molto leggero, con delle pause relative allo studio e all'informazione, con meditazione, yoga, un posto molto bello, tranquillità, relax, per cui un'esperienza sicuramente molto positiva a 360 gradi. Ha bisogno il nostro corpo di essere ripulito, di essere aiutato intanto a disintossicarsi. Una volta disintossicato e acquisite nuove informazioni dal cibo, dal cibo buono, questo sicuramente può essere uno stimolo ulteriore per poter migliorare le nostre performance. Questa è la mia strada, questa è la mia esperienza e soprattutto il percorso che sarà sicuramente per tutta la vita, perché questo tipo di alimentazione, questo tipo di cibo per il nostro corpo ha una valenza particolare, ha poche tossine, quasi niente, e sono quelle che il corpo è in grado di poter espellerle rapidamente e facilmente. Adesso naturalmente bisogna andare a casa, elaborare, comprendere e continuare.